buongiorno buongiorno del dottor Claudio Saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad un signore di casa blanca il quale mi scrive dottore sono andato dal mio medico curante e mi ha ho parlato dell'ipnosi per il mio problema e mi ha detto testualmente che non la conosce che sono forse cose nuove che non ne sa nulla che non sa cosa dire che non sa cosa fare io gli ho risposto che bisogna sempre ragazzi andare dal tuo medico chiedere informarti però ricordati su 100 medici soltanto uno conosce l'ipnosi vera e del mondo in cui risiede perché i 99 magari conoscono soltanto l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura come la tv i mass media hanno inculcato nelle nostre menti a prescindere da dove abitiamo e la risposta te la puoi dare da solo è il perché prima c'è la buona fede nel senso che l'ipnosi per circa un secolo è stata dimenticata per cui l'hanno presa in mano i ciarlatani nei vari circhi nei vari spettacoli per impressionare la gente scroccare soldi poi è stata riconosciuta come medicina alternativa nel 1958 l'associazione medica mondiale e dalla chiesa con papo a pionò nel 1847 anche dalla chiesa ma nel contempo non si studia nelle università ok non si studia ci sono delle associazioni private all'atere fatte da medici psicologi psicoterapeuti in base a dove risiedi anche di mental coach gente che non è laureata e compagnia bella quindi che cosa ti fa capire questo che c'è molta ignoranza ragazzi c'è molta ignoranza in merito perché il perché te lo puoi dare da solo te lo puoi dare perché se con le parole rifetti io risolvo il mio problema per sempre perché a che pro questa soluzione si chiede il potere forte il famoso pastore per cui solo a te la scelta se poi vuoi hai magari sperimentato l'ipnosi trovato un po di qua di là su internet in qualsiasi lingua e vuoi provare l'ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola metodo dicesse unico al mondo e non è un modo di dire ragazzi è documentato scientificamente perché ti sto dicendo che puoi utilizzare l'ipnosi dicesse anche per chi non vuole essere aiutato chi non può essere aiutato ok e quindi fammi ti può scaricare anche un audio mp3 dicesse se non hai tempo e per che fa per te oppure per il tuo caro e ti meraviglierà del potere della tua mente senza se senza ma fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio serracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio serracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel guida quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse del dottor claudio serracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao